Sesta corsa del convegno, doppio chilometro, 10 al via legati da rapporto Erina e Golmodel al comando Griljane, partita male Dendio M, Griljane in vantaggio, 16 e 4 il lancio in seconda posizione Erina del Ronco, l'errore del numero 10, Golmodel, terza posizione Freypress, a largo viene via Dragonite Hans, 31 e 4 i 400, con Dragonite che va su Griljane, poi Erina, Freypress, Guardian Leo, Fire Borgi, passa Dragonite davanti alle tribune, Dragonite in vantaggio su Griljane, Erina del Ronco e Freypress, davanti alle tribune Dragonite Hans, Giampaolo Minucci a fare l'andatura, metà corsa, va via in 1,16 e 6 complessivi, a largo Freypress, si trascina anche Fire Borgi, Dragonite, Freypress, Griljane, Erina del Ronco, Fire Borgi, Guardian Leo, poi Cristalite, Rock, schema che rimane al medesimo, con Freypress e Marcello Di Nicola che vanno su Dragonite e Giampaolo Minucci, in corda Griljane e Leifbergren all'esterno Erina del Ronco, sta passando Freypress a 400 dal palo, Freypress in vantaggio, Dragonite che sbaglia, Freypress che sullo slancio prende 2 di margine, nei confronti di Fire Borgi che viene bene a largo, poi Erina, addirittura ed arrivò Freypress in chiaro vantaggio nei confronti di Fire Borgi e Erina, Freypress a 3 di margine sul resto del gruppo dal quale finisce bene Guardian Leo, Freypress viene a vincere su Guardian Leo, Fire Borgi, 3-2-1, Marcello Di Nicola